A Teramo è iniziato nel migliore dei modi il percorso con tanti eventi collaterali che porterà all'apertura dei giochi in programma domenica 9 luglio per la cinquantesima edizione della Coppa Interamnia che animerà la città fino al 15. Tante le persone che sono arrivate a Teramo per l'inaugurazione degli eventi e per il concerto di Diodato. Io credo che sport e cultura debbano sempre andare un po' a braccetto e siano delle grandi opportunità per far conoscere la bellezza del nostro paese, le potenzialità del nostro paese e appunto come dicevi giustamente tu per aprirci. La sensazione che ho è che ci sia molta necessità e anche volontà forse di aprirsi, una volontà che arriva proprio dal basso, una volontà di incontrarsi, di scambiare qualcosa con anche gente che arriva da culture diverse, da paesi lontani. Quindi sono onorato di poter far parte di una manifestazione che ha questi intenti e speriamo di essere all'altezza. L'evento ieri ha aperto il programma delle iniziative collaterali in attesa di domenica, quando le prime gare eliminatorie e la sfida degli atleti daranno il via alla parte sportiva della manifestazione mondiale di palla a mano. Ieri si è alzato il sipario anche sul progetto di arte urbana One Flag. In corso Cerulli sono visibili delle bandiere create da vari artisti con immagini che trattano i temi dell'inclusione, della pace e del superamento delle barriere. Lavori ad hoc per il progetto e abbiamo deciso di collocarli in questa porzione del corso vecchio di Teramo perché appunto volevamo che a mo' di bandiera, come d'altronde vediamo che in questi giorni la città di Teramo è piena di tutte le bandiere e di tutti gli stati di appartenenza delle squadre che stanno per invadere la città e per partecipare a questo grandissimo torneo sportivo e quindi l'idea era proprio quella di esserci anche noi con l'arte per lasciare appunto il segno, le bandiere dell'arte come mi piace chiamarle o le bandiere dell'inclusione che in qualche maniera anche se non sono per tutti così esplicative come il primo impatto perché poi ogni artista ha la sua ricerca e bisognerebbe fare degli approfondimenti ma sicuramente l'impatto visivo lascia che si rifletta, fa sì che comunque ognuno di noi vedendo queste bandiere faccia delle riflessioni e già questo per noi è molto importante.